Il nostro obiettivo è quello di prevedere, non da subito perché vogliamo dare il tempo ai gestori di organizzarsi e anche ai clienti di familiarizzare con i monopattini, ma a cominciare dal primo febbraio noi a Firenze renderemo obbligatorio indossare il casco per chi usa il monopattino. È un'ordinanza che stiamo predisponendo, che firmerò d'accordo agli uffici mobilità. Saremo la prima città in Italia, ma sono sicuro che seguiranno molte altre città. Perché? Perché il monopattino è un mezzo di trasporto comodissimo, agile, piace tanto, non inquinante, però anche pericoloso. E visto che già oggi il casco è obbligatorio tra i giovani che hanno tra i 14 e i 18 anni, non vediamo perché non debba essere obbligatorio per tutti. Purtroppo ci sono stati molti casi di incidenti. In Europa c'è stato anche qualche peccato di persone morte. Quindi dobbiamo essere solo prudenti. La sicurezza per noi viene prima di tutto. Come sapete Firenze è la città che aderisce al progetto della FIA con Jean Todd, alto commissario per la sicurezza sulle strade dell'Organizzazione Nazionale Unite. Quindi per noi la sicurezza è un punto centrale. Si può tranquillamente aprire la città alla Sharing Mobility. Lo abbiamo già fatto e lo vogliamo fare sempre di più, ma lo dobbiamo fare in sicurezza.